Nuova giornata di controlli nelle case di riposo della provincia da parte dei NAS dei Carabinieri coordinati dalla Procura di Sondrio per fare piena luce sulle numerose presunte morti da coronavirus registrate nel corso della pandemia. Al momento gli uomini dell'arma hanno effettuato gli accertamenti nelle RSA di Nuova Olonio di Dubino, Talamona, Chiavenna, Morbegno e oggi a Tirano, come conferma il presidente Mario Porta. L'attenzione degli inquirenti si concentra sulle cartelle cliniche degli anziani ispirati, verosimilmente a causa del Covid-19, che verranno poi analizzate da consulenti specializzati, ma anche sulle procedure di isolamento adottate nei confronti di persone che hanno contratto il virus a tutela degli ospiti in buone condizioni di salute. Obiettivo stabilire se vi siano responsabilità rispetto alla diffusione della pandemia. Nella casa di riposo di Chiavenna, la prima che ha evidenziato una situazione di emergenza, registrando, nonostante l'applicazione precoce di tutte le misure di tutela, la perdita di una ventina di ospiti, di cui 10 con una media di 89 anni e pluripatologie, presumibilmente per coronavirus, la situazione ora sembra essere sotto controllo. Ormai tutti gli ospiti, quasi un centinaio, sono stati sottoposti a tampone e da giorni non si registrano decessi. Gli anziani risultati positivi sono in isolamento, sottoposti a terapia. Nei giorni scorsi l'intervento dei carabinieri dei NAS, spiega il presidente Orazio Scuffi, che hanno analizzato in particolare i protocolli con le linee guida di intervento in caso di emergenza, informandosi su come erano stati applicati a tutela dei pazienti. Siamo a disposizione delle autorità, spiega oggi Donato Valenti, presidente della Casa di Riposo Sant'Orsola di Teglio, che si prende cura di 64 ospiti, 48 nella RSA e 16 nei mini alloggi protetti, e registra nei mesi di marzo e aprile la perdita di 14 anziani, 9 sospetti covid, 2 con tampone positivo, 3 per cause naturali. Abbiamo lavorato con coscienza e serietà e continuiamo a farlo. Abbiamo dedicato un intero piano ai pazienti sospetti covid per il loro isolamento. Il personale è dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale e il direttore sanitario Paola Ruffini è da tre settimane che si prende cura degli ospiti da sola e mantiene i contatti con i familiari, spiega Valenti. Gli anziani sono stati tutti sottoposti a tampone, stanno arrivando gli esiti in questi giorni. Il coronavirus è stato come uno tsunami che ci ha investiti e noi abbiamo fatto tutto quanto in nostro potere per evitare la diffusione del contagio, precisa Valenti. L'unica riflessione che mi sento di fare è che non abbiamo nulla da nascondere, siamo a disposizione degli inquirenti. In casa di riposo ci sono tanti bravi medici e infermieri che si prendono cura con amorevolezza e professionalità degli ospiti. Per loro chiedo solo rispetto e riconoscenza.